DIMMI CHE COSA È SUCCESSO Che cosa hai visto? Se faccio quello che volete, mi tenete su questa sedia per sempre. Chris Johnson ha la capacità di vedere le cose prima che accadano. E chi riesce a vedere il futuro può cambiare il presente. Ma questo genere di potere ha un prezzo. Puoi vedere le cose prima che accadano? Sì, il mio futuro. E soprattutto il tuo. Ho visto molto più in là di qualunque altra cosa avessi visto prima. Devi andartene da qui. La gravità della situazione ci costringe a usare tutte le risorse disponibili per prendere Johnson. Ho visto ogni possibile finale. Non ce n'è una bella per te. Milioni di vite sono in pericolo. Potresti prevenire un'immane catastrofe. Non voglio che tu muoia. È successo. Solo non ancora. Comunque io provi e alla fine muore sempre. È ancora viva come tutti noi e così deve restare. Possiamo pensare di sapere cosa ci riserva il futuro. Chi siete? Che volete? Ma niente può prepararci. Non farlo. L'ho già fatto. A quello che accadrà dopo. Dimmi che cosa hai visto. Ho fatto un errore. Sta accadendo. Ora! Ormai. Grazie a tutti.